Riusciremo a vincere questa battaglia, si vedrà ora! Quella caspita di classifica, vedete, la prima è stata una sconfitta schiacciante, poi c'è stata la seconda che è stata una vittoria, la sconfitta, la sconfitta e poi la vittoria, che sono queste due le partite che avete visto, oggi speriamo di fare di meglio. Nel frattempo ho aperto scioccamente un tesoro usando delle gemme, qua mi dà un tempo di 3 ore per aprirne un altro, qua possiamo aprire un altro usando 18 di questi cristalli e non aspettare le 3 ore. Ma io direi pure di aprirlo e vediamo che succede, apriamolo insieme a voi, mi dite se ho trovato schifezze o cose fenomenalissime, merrime, vediamo, oro, già sono ricco, goblin, carta comune, mi sa che forse ce li ho già però sono verdi e sembrano shrek e cavaliere, carta comune, e poi valkyria, carta rara, livello 1, ragazzi ho la valkyria, la valkyria ragazzi, valkyria, vediamo come fa questa valkyria. Punti 880, danno ad aria, bersagli terra, portata mischia, danni 80, tutte queste cose di qua che è tenace, combattente da mischia, infligge danno ad aria intorno a sé, shami, orde, nessun problema, ripulisce tutto, in pokémon se la chiamavano anche folletto, quello che usa la mamma per aspirare. Allora, cosa possiamo fare, quanti punti vita aveva questa valkyria? Aveva 880 punti, e fa danno ad aria ragazzi, vediamo questo di qua che cosa fa, intanto ha 160, Ragazzi, vediamo di sostituire un istante della valkyria con questa, usa, e la mettiamo al posto di questo, vediamo come va la valkyria, ma questo è a livello 2, quindi non ne sono proprio sicuro, forse è meglio della panna di... La panna di... La panna di... Il cannone di panna. Ragazzi, proviamo una partita, vediamo come si comporta la valkyria, se ho fatto una sciocchezza epica a cambiarla, sono sicuro che voi me lo farete sapere nei commenti e mi punirete. Cosa succede intanto? C'è richiedi, guarda, TV Royale, c'era una cosa che non si capisce, mi stiate pure questa qua, questo 1, che cosa vuol dire? Ricorderò... Anzi, ricordo, non ricorderò, lo ricordo ora. A tutti quanti che qua ha allivato, ha allivato, parlerò in cinese, ha allivato a livello tle, io tle lo ho clan, quindi voi fale sapele nei commenti se volele joinale clan, entrale in clan. Ok, si comincia battaglia, ragazzi, sono tutto emozionone, sta ricercando arena numero 1, c'è già un nemico pronto a farmi il sederizzo, Gio, va bene, Gio, vediamo qua. Cerchiamo di capire, Gio, Gio, il livello 2 già ci attacca così per farci tanto male con tutte le truppe e noi mettiamo qua questo cavaliere e dopodiché disponiamo il gigante e dopodiché cerchiamo di mandargli le valchirie, vediamo di provare queste valchirie, cosa fanno queste valchirie. Dovevamo mettere prima il gigante molto probabilmente, però non l'abbiamo potuto fare, mettiamo gli arcieri a fare danno da lontano, loro devono frecciare perché sono tremendi, ed ecco che sta cadendo la torre di questo. E un altro cavaliere va a seguire, andò il drago di nuovo, il mio nemico cerrimo, il drago, arcieri, arcierate il drago, ed ecco che sono nei guai questi. E noi buttiamo una palla di cannone per far vedere che non scherziamo e continuiamo a rifare salire le nostre forze. Ragazzi, qua gli abbiamo tolto già mezza vita, lui ci continua a far male con quello che vuole e noi cerchiamo di accumulare quanti più punti possibile. Va bene, quello ci ha messo le cose e ora cominciamo subito con gigante, lo facciamo partire qua, seguito da valchirie. Seguito da arcieri, li mettiamo qua vicino, qua la torre nostra cerca di difendersi e noi continuiamo e mettiamo il cavaliere qua a dare una mano. Gli arcieri stanno ammazzando il loro drago e il gigante continua ad attaccare la torre. Ora, stiamo cercando di vincere, forse riusciamo a chiudere la partita e ce l'abbiamo fatta! Una grande vittoria di Restless Gaming, ragazzi, ragazzi, che emozione! C'è andato pure un baule d'oro, è d'oro ragazzi, non è oro, argento mirra, è oro anzi. E qua abbiamo otto ore per aprire questo baule, ma che dite, il baule d'oro è 48 punti. Ragazzi, sblocchiamolo, 48 punti, lo sblocchiamo con voi, vediamo cosa esce. 67 di oro, meglio di niente. Poi che cosa c'è? Bombarolo, carta comune. No, goblin ce li abbiamo già! E poi abbiamo goblin lanceri, carta comune, ma vaf! E poi gigante, livello 1, miglioramento disponibile. Ragazzi, possiamo migliorare il gigante. Baule della corona apri, che cos'è questo qua? Ragazzi, altri bauli, siamo aprendo tutti i bauli del mondo. Abbiamo ancora 4 carte, e 5 carte, anzi. Vediamo 29 gemme, non male. Di nuovo i goblin, e ne abbiamo tanti. Dopodiché abbiamo le frecce, livello 2, miglioramento disponibile. Arcieri, miglioramento disponibile. E poi abbiamo la palla di fuoco. E questo è quanto. Andiamo a vedere un secondo cosa possiamo migliorare qua. Gli arcieri, ragazzi, io li miglioro. Con 20 monete d'oro, li vale tutto il miglioramento. Abbiamo gli arcieri più arcierosi. Loro frecciano con le frecce nelle mani. Ci hanno l'arco, ci hanno l'arco nelle mani. E le frecce nell'arco, ragazzi. E noi cercheremo di frecciarli tutti. Il nostro gigante, ragazzi. 50 monete d'oro. Ma che cosa sono per far diventare il nostro gigante più gigantesco? In bocca al lupo, nemici. In bocca al lupo. E le frecce, le frecce, le frecce. Facciamo anche le frecce, ragazzi. E abbiamo le frecce a livello 3. Sfrecceranno ancora di più. Ma cominciamo a fare sfrecciare le frecce. Ritorniamo qua. Un'altra battaglia, ragazzi. Un'altra battaglia. Si comincia. Riusciremo a vincere questa battaglia. Si vedrà ora. Cominciamo subito con questi punti che cominciano a salire. Lui si sta scoprendo. Assolutamente no. Ora noi andiamo a fare co-heal. Partiamo da qua. Gigante. Gli mettiamo dietro l'arciere. E cominciamo a farli partire da dietro. Così hanno più tempo per fare quello che vogliono. Gli mettiamo qua gli arcieri. Quello ancora ci aspetta, ci osserva. E noi gli buttiamo le frecce. E cerchiamo di fare male a tutte queste unità contemporaneamente. E stiamo cercando di far risaltare. Se ci riusciamo qua. Quello che possiamo. O la prima torre è andata, ragazzi. Le nostre truppe continuano ad attaccare. Il nemico è in difficoltà. E noi cercheremo di metterlo ancora più in difficoltà. Ma abbiamo bisogno del gigante di nuovo per prendere botte. Anche se questo cavaliere sta assorbendo abbastanza. Guardate che bordello, ragazzi. Guardate che bordello. Siamo riusciti al bordello a farlo andare abbastanza. Gli abbiamo tolto più vita alla torre. E accumuliamo punti. La loro torre, il loro castello, il loro re è in difficoltà. Questi di qua dovrebbero prendersela un pochettino lì dietro. E noi mettiamo qua il gigante. Cominciamo a farlo scendere. Mentre i punti salgono. Hanno lanciato un volley di frecce per il gigante. Mettiamo gli arcieri subito dietro. E andiamo con il cavaliere. E sta in difficoltà, ragazzi. Stiamo cercando di sfondare. Sicuramente uscirà altre carte il prima possibile. Ma è davvero nei guai questo tizio. È davvero nei guai. Proviamo questa carta. Vediamo come vanno. Vediamo. Noi stiamo andando. Stiamo avanzando. Stiamo avanzando. E riusciremo a fare sicuramente qualche danno alla torre. Facciamo un bel volley. Cerchiamo di colpire ad aria. Ed ecco che un'altra schiacciante vittoria. Ci è stata assicurata. Ragazzi. E abbiamo preso un altro trofeo. Non ce ne frega niente. Mai. Non facciamo recensioni per ora. Perché non ci interessa. Ma ricordate di lasciare un vi piace per sostenere la serie. Questo gioco è di canale. A livello 3 creeremo il clan. Fatemi anche sapere se siete interessati a entrarci. E come si fa ad entrare nei clan. Perché ancora non lo so. Clash Royale. Mi sembra che sia un gioco davvero giochissimo. Grazie. E alla prossima. Ciao. 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 Ciao.